E' stata dell'84,6% la percentuale di studenti presenti alle lezioni questa mattina alla riapertura del liceo classico Melchiorre Delfico di Teramo. Quella del liceo scientifico delfico e del coreutico è stata del 65%, del 68% invece al liceo artistico. Lei ha detto che i ragazzi si sono dimostrati responsabili, intelligenti, hanno preso le loro decisioni, quindi si sono riuniti e insieme hanno diravato questo comunicato, insomma, quindi voglio dire hanno riflettuto, sono veramente ragazzi consapevoli e responsabili. E' importante tornare alla normalità? Sì, abbiamo bisogno della normalità, della quotidianità, di tutto quello che bisogna fare. Perché ci sono già le materie d'esame? Ci sono le materie d'esame e quindi dobbiamo prendere delle decisioni anche dal punto di vista didattico, insomma, perché questi ragazzi sono il nostro futuro e noi ci teniamo tantissimo, tantissimo. E allora dobbiamo lavorare insieme, in serenità, collaborare, tutte le componenti della scuola devono collaborare, per arrivare a un traguardo positivo. Lei ha incontrato anche il comitato dei genitori? Sì, ieri mattina alle 9 sono venuti tre rappresentanti del comitato spontaneo dei genitori, è venuta la dottoressa di un'associazione per la formazione sull'emergenza e per il supporto psicologico. Quindi noi faremo un percorso, chiameremo i genitori e i docenti disponibili e quindi faremo questo insieme. Mi sembra, insomma, una cosa positiva e utile. Una sorta di normalità, certamente, che appunto i dati dimostrano chiaramente l'84,6%, diciamo che è un numero che può essere raggiunto anche in giorni normali, non post quindi sisma, non post terremoto. Normalità che vige anche all'interno della scuola perché facendo un giro appare comunque chiaro che la situazione è quella di sempre. Come avete affrontato questi giorni? Questi giorni, soprattutto, abbiamo anche il nostro gruppo con i rappresentanti di classe, sono stati molto movimentati, non lo mettiamo in dubbio. Ci sono stati anche dei pareri discordi da quelli riguardanti la famosa agibilità o meno di questo edificio, però pochi comunque sono i ragazzi, veramente due o tre di numero, che hanno paura, diciamo così. La maggior parte è sicura all'interno di questa scuola. Dunque, da oggi ufficialmente si torna alla normalità? Io penso proprio di sì.